Oggi è il giorno della terza prova degli esami di Stato. Milioni di studenti hanno da poco sostenuto la prova multidisciplinare sulle conoscenze, capacità e competenze studiate nel corso del quinto anno. I commenti a caldo degli studenti della quinta sezione elettronica dell'Istituto Galileo Ferraris di Acireale. Terza e ultima prova scritta, com'è andata? Abbastanza bene diciamo. I professori ci hanno aiutato dove hanno potuto. Abbiamo fatto le simulazioni durante l'anno quindi già eravamo pronti a questa prova. Qualche giorno di relax e poi pronti per la prova finale, l'orale davanti alla commissione? Sì, lì saremo solamente noi contro i professori, quindi vediamo come va. Quindi stai già preparando per quest'ultima prova? Sì, stiamo preparando ognuno il proprio percorso con gli argomenti collegati fra di loro, insomma vediamo come va. Dopo il diploma, progetti, cosa pensi di fare? Se c'è lavoro, casomai università. Abbiamo fatto delle prove soddisfacenti, sì, potevamo fare di più questo, però dai, diciamo bene, sì. Dopo il diploma, quali progetti hai? Ovviamente si cercherà il lavoro, al limite università. È andata abbastanza bene questa terza prova, pensavamo peggio, però alla fine ce l'abbiamo fatta. L'importante adesso è pensare agli orali e poi si vedrà. E preparati al futuro come? Eh vabbè, vedremo, bisognerà vedere un attimino se ci sarà la disponibilità di trovare magari un lavoro oppure continuare con l'università.